Twitch Italia si sta riempiendo veramente di spazzatura. Ci sono cose terribili, ma è quello che va. Come si sceglie il contenuto da portare su Twitch? Come si costruisce un palinsesto di un canale? Eh, dipende dalla persona, dipende dai tuoi obiettivi in realtà. Perché comunque ormai c'è talmente tanta varietà, appunto perché non si gioca soltanto, che sicuramente, secondo me, ormai il variety streamer sta andando un pochino a sparire. O già hai un pubblico grande, o allo stato attuale è difficilissimo emergere come variety streamer. Il variety streamer è uno che porta tanti giochi diversi. Ora conviene specializzarsi, come ad esempio in retro gaming, giochi di ruolo. Dipende dall'obiettivo che tu ti poni su Twitch. Se ti vuoi divertire, porti quello che vuoi e poi come va va. Se vuoi camparci, devi fare delle logiche un po' più commerciali. Te cosa fai? Io mi diverto, quindi porto ciò che mi fa. Variety tanker. Quanta vita ha un contenuto streammato? Per esempio, da Demon's Souls c'è gente che campa con canali dedicati solo ai Souls, per esempio. Dipende poi dal gioco, perché comunque, a parte qualche gioco che rimane sempre come World of Warcraft, Airstone, COD, i giochi del momento hanno vita estremamente breve. Cioè, finito l'hype iniziale, vanno a morire. Esattamente come nel gioco da tavolo. A meno che, appunto, non sei specializzato su quel gioco, quindi di conseguenza continui a portarlo. Quindi se tu continui a portare i Souls, Demon's Souls lo continui a portare ora. Ok. Ma la continuità è data più, secondo te, dalla tipologia di gioco o dalla tipologia di streamer? Quanto può essere un fatto di professionalità dello streamer? Quanto un fatto di empatia? Cioè, io mi costruisco una carriera specifica oppure a me funziona perché arrivo alle persone, quindi indipendentemente da quello che faccio, ho un pubblico gigantesco? Guarda, allora, questo genere di discorsi, per quanto riguarda indipendentemente da quello che faccio, lo possono avere chi ha già un pubblico da qualche altra parte, vedi Yotobi. Per esempio, Farenz, youtuber di vecchia data, ora è approdato su Twitch e fa dei numeri abbastanza alti per essere nuovo sulla piattaforma. Se hai già un pubblico da qualche altra parte, ti seguiranno sicuramente. Altrimenti, secondo me, è difficile, allo stato attuale, nel 2021 quasi, per quanto può essere professionale, fare emergere contenuti, diciamo, con giochi sempre diversi, è molto, molto complicato. Cioè, anzi, attualmente quelli che emergono di più sono appunto quelli che portano just chatting. Soltanto che si entra in un mondo un po' borderline. Twitch Italia si sta riempiendo veramente di spazzatura. Come ti dicevo prima, è quella tv spazzatura che piace a molti, però che sdogana razzismo, misoginia, sessismo, e non moderano la chat. Cioè, ci sono cose terribili, ma è quello che va. Cioè, allo stato attuale è quello che va. Cioè, ci sono cose terribili, ma è quello che va.